Con due ban, Carl e Mr. P Sì, Mr. P e Carl bannati, mentre i due ban generali, se non sbaglio, sono Bo e Bo e Po Esatto, bravissimo, quindi questi quattro personaggi non li vediamo Ah no, un'altra mappa? No, scherzavo, non è Miniera Rocciadura Stanno giocando sempre su Arraffagemme, ma si chiama Fortino di Souvenir Sì, che gli hanno cambiato il nome adesso Sì, ma infatti era molto più bella prima, dai, era fantastica Questa mappa, ragazzi, c'è dalla beta, quindi dall'inizio, inizio, inizio, inizio Io qui ve la gioco lì, ho fatto Bulla 500, quando il tempo era difficile Mamma mia, mamma mia, sì, vabbè, sì, che prima fare il rank 20 era molto più complicato Il rank 20 era tostissimo, facevi più uno Comunque, guarda qua come se la stanno giocando i totemi Io ti stavo già per dire, guarda come vediamo, da entrambe le parti, se non sbaglio, 8 bit Con questa nuova abilità stellare Mi piace Lo utilizzano, io l'ho visto tantissimo, ho visto un po' di screamer Che comunque anch'io, ovviamente di nome, più che altro conosco Ovviamente tutti i ragazzi, ogni tanto mi vedo, video, partite, eccetera Anche all'estero e sto vedendo che Mr. P ha preso piede con questa nuova abilità stellare In maniera davvero... 8 bit, 8 bit, sì, comunque sì, sì, hai ragione È uno dei brawler preferiti da Trebor, Robert Adesso gioca in Francia ma spinge tanto Guarda qualche bel push che hanno fatto per i tuoi sulla destra C'è una Naosaki che, oh, bell'acquisto Sì, 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 sì Ottimo Sì, ma che poi tra l'altro ho visto un sacco di team hanno il... Il player straniero, diciamo così Un sacco di team si sono rinforzati col player straniero Ora bisogna vedere effettivamente questi player stranieri come si agganciano, tra virgolette, al competitive in Italia Sappiamo comunque, dobbiamo dire la verità, che all'estero ci sono molti team già affermati anche a livello europeo Però comunque, diciamo che magari già ha uno stile di gioco differente, non lo so Però dobbiamo vedere come si adattano più che altro anche per gli allenamenti Sai cos'è? Sarà un bell'innesto Perché tu vai a immettere persone che magari hanno un'esperienza maggiore Sì, esatto In un campionato, non alle prime armi, però che sta crescendo Perché rispetto all'anno scorso, quest'anno, se l'anno scorso il livello faccio da 1 a 10, era 6 Quest'anno già sta salendo Un buon 7 e mezzo, mettiamolo così Magari una prossima edizione sarà clamorosa Ci ritroviamo una squadra che si gioca le Mont Refiner Adesso gli unici che l'hanno sfiorato Perché poi, ragazzi, due mesi fa, o forse tre Tre mesi fa l'hanno veramente sfiorato Per chi non lo sapesse, gli outsiders stavano per vincere Cioè per qualificarsi alla Mont Refiner E si qualificano tre squadre in Europa, quindi complimenti Eh sì, esatto, tre squadre arrivarono quarti praticamente Esatto, per pochissimo Intanto qui sono già ripartiti E mi sembra ci siano conferme di comp da una parte Mentre dall'altra viene posto 8-bit C'è una max Max che adesso è uno dei brawler più broken, mettiamola così Assolutamente Viene giocata, si è giocata bene Però 8-bit ha un suo perché in questa manca qua Riesce a farsi Guarda come si mette Si mette la torretta là Poi si tiene la lane sulla sinistra E comunque aiuta i compagni Bravo, perché quando la Savi E la Savi, buonanotte Stavo fatto una crasi Quando la Max cambia e si sposta dalla lane Va a centrale, lui lo segue E con il range più lungo lo mette nel sacco Sì, infatti lo mette molto sempre in difficoltà E invece di là ci sono le solite PAM che si danno battaglia Ma anche PAM ormai Cioè, il brawler assoluto viene utilizzato ovunque In qualsiasi modalità, in qualsiasi mappa PAM ormai si è presa al suo posto e non lo lascia più Assolutamente Qua prendono il centro i ragazzi di OS Con una bellissima super buttata da Sub-Zero Sì, sì, sì E comunque attenzione anche ai Totem Perché vedo che Lind adesso con Semino E anche con l'aiuto di Leo Perché era andato giù Nasaki Stavano prendendo il centro Infatti in questo momento sembrano Sì, 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 ma non è sicuro Infatti guarda Sub-Zero è stato costretto a giocare la propria super Per tagliare lateralmente gli avversari Però adesso se non se ne ricarica subito un'altra Ma dovesse farlo prima Lind Sarebbero problemi Perché sarebbero loro a essere tagliati fuori Invece no, non è successo Ecco appunto Quello va a ricaricare Uno parla Esatto, esatto Prendono la decima Penso adesso andrà a mettersi in cassaforte dietro Eh, ma per forza Per forza Bella giocata, devo dire Io fossi stato di Totem Avrei giocato più sulla lane di sinistra Piuttosto che sulla Pam Perché Pam comunque non la butti giù facilmente Eh, no, Pam Pam è davvero incredibile Pam è davvero incredibile E devo dire che di là Blackfire Non ha fatto muovere Savi Hanno provato a mettere una Maxine Magari sfruttando la velocità Per mettere in difficoltà l'8-bit Ma non ce l'hanno fatta Vabbè, vabbè Onestissimo Comunque il primo set è andato abbastanza rapido Che poi Eh, facciamo notare a tutti quanti Eh, rispetto all'anno scorso Si gioca sulla stessa mappa Prima era una Vol3 Cambiando sempre Adesso è una Vol3 Sulla stessa mappa E le mappe sono decise comunque Dai team piccando Bannando È tutta una procedura Automatizzata Un po' lunga Sì Simpatica da vedere Sì, diciamo che anche le mappe Vengono decise lì Noi pure fino all'ultimo Non lo sappiamo Perché vengono bannate Piccate, eccetera C'è un po' un lavoro dietro Che ovviamente voi non vedete Ma in realtà non vediamo neanche noi Perché fanno tutto I player con l'organizzazione Eh, infatti noi Prima delle partite, no? Che abbiamo dovuto chiedere I bann Che poi adesso ci deve essere Uno studio sui bann Perché io ribadisco Che sono decisamente cambiati Rispetto all'anno scorso Perché l'anno scorso C'era un bann Che durava per tutto il match Adesso invece viene fatto Un bann generale per il match Che nella partita Che stiamo vedendo adesso Tra outsiders e totem Sono Bo e Pocho Che rivedremo anche dopo Perché già sappiamo Anche i prossimi bann Vi spoilerò che Molto spesso verranno bannati E invece poi Vengono bannati Altri due brawler Uno per team Per ogni mappa Anzi per ogni modalità Scusatemi Quindi per esempio Due brawler Bannati in generale Tra outsiders e totem E poi Per ogni singola modalità Ci sono altri due bann Che sono scelti appunto Uno per team E adesso con 40 brawler Vediamo un po' È bella tosta È bella tosta Ma infatti c'è stata anche appunto La volontà delle squadre stesse A aumentare il numero di bann In questo momento Perché Bannandone uno Non limiti nulla alla fine O no Facciamo una partita Ti banno Che ne so Pocho Ne hai gli altri dieci Adesso invece c'è un studio Molto più approfondito Molto più simpatico Comunque adesso Football Andiamo Sì I bann ragazzi Sono Bea e Max No Scusate Ho detto male Chiedo Venia Sì Che poi tra l'altro Quelli in arraffa Anche mi ero perso Tra l'altro Sono Jackie e Jean Eccoli qua Ok E invece in arraffa Giusto per la cronaca Non abbiamo visto Mr.P Che in quella mappa Effettivamente è molto buono Pro perché era stato bannato E Carl Invece adesso in football Come stai dicendo giustamente tu Bea e Maxine Beh diciamo che No no aspetta Jackie e Jean Jackie e Jean L'ho segnato io qui Ah ok Aspetta Fermi tutti Jackie e Jean Giusto 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 Stavo vedendo completamente Un'altra partita No ma infatti anche a me Mi si sono imbrogliati gli occhi Però dai Buona la prima Ah guarda Mortis Guarda Mortis Nonno Osaki Eccoli qua Sì 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 Infatti un bel Mortis Dall'altra parte invece abbiamo Frank Bibi Maxine Di qua invece abbiamo Sempre Bibi Ma ci sono Carle Come dicevi tu Mortis Eh stavo Esatto sì Stavo recuperando i bannasi Jackie ed Eugenio Beh Jackie in questa mappa È tanta roba Sì 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 Molto forte Molto forte Infatti hanno fatto Hanno fatto bene Jean è un ban che non mi aspettavo Sarò sincero Perché comunque Magari sai L'hanno bannato Sapendo che Gli avversari Se non ricordo male Lind Lo gioca molto bene Jean L'anno scorso Lo prendeva sempre Se non erro Sì 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 No Lind L'anno scorso Ci ha fatto davvero Era lui vero Lui e Mr. Lenane E chissà se lo ritroviamo Quest'anno Te lo ricordi Mr. Lenane Mamma mia Se me lo ricordo Che dopo due giornate Purtroppo Ha avuto problemi Esatto Diciamo così Esatto Però poi comunque Lind Infatti con Emos ci chiedavamo Lind con Eugenio Sarà all'altezza Di Lenane E devo dire la verità Ragazzi Ha giocato davvero Davvero bene Gioca proprio bene Infatti Da buoni Strateghi Che sono gli OS Hanno detto Banniamo Il loro broletti forti Memory Dell'anno scorso Sarà una scelta vincente Vediamo 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 Qui in particolare Comunque il Mortis Soffrirà molto Secondo me Guarda Ti dirò Mortis dovrebbe andare su Frank Sì Perché A romperi le scatole Se non ci va Praticamente non di voi Giocare con uno in meno Però non Non ottiene il suo scopo Perché alla fine Frank Se gli lasci spazio Alla lunga ti segna Infatti adesso Vedi come hanno subito Deciso Forse poi è stato Savi Però a sbagliare Tra virgolette Sempre sbagliare Dico perché Non è un'opinione La lane su cui andare Io sarei Avrei continuato a giocare Sulla Sulla lane alla vostra destra Ha deciso di switchare Ma così ha fatto anche Nano Osaki Insomma Cambia niente Sì Sì esatto Sono switchati A vicenda Uh qui c'è stato un push Incredibile Bellissima Questo è gol Sì Questo è gol Questo è gol Prende attimi Io sai In football Una volta la vidi Per la prima volta In championship Che avevano ucciso Riesce a scattare Ottima partita Bella giocata Penso in football Questo Poi verifichiamo Sì sì Per quanto riguarda Salvo che sia una cosa clamorosa Salvo che sia una cosa clamorosa Capito Altrimenti Advertente Doloroso Che offriva un ottimo vantaggio Infatti adesso saranno loro A doversi difendere dal push Sulla destra Che si dimenticano praticamente Sub-Zero e Nano Osaki Lì da soli Infatti guarda che bel gol È andato a fare Sub-Zero Te l'ho detto Con 300 di vita Si è infilato in mezzo agli avversari Ed è andato a buttarla dentro Ma qua Leo Che si è dimenticato completamente Della palla Ho detto io vado Sì 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 Non poteva lasciare Savi con Semino No assolutamente Da solo Contro Sanziro Contro una Maxin Una Max Non puoi lasciarlo mai da solo Anche perché in campo aperto Ti distrugge No ma assolutamente Ma che scherzo Una Maxin usata bene Contro un Semino Così a campo aperto È davvero difficile Beh vediamo adesso Come se la giocano Secondo me dovrebbero Pushare sulla parte di destra Cercando di evitare I Frank Annullarsi un po' a vicenda Però che bella giocata I Savi però Per bloccare Sì La bea di Black Sì 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 No infatti Devo dire che in questa partita Stanno giocando A parte qualche svista Ma devo dire la verità Che anche l'anno scorso Era così eh Partite bene o male Tutte tese Tutte controllate E poi la differenza La fa la giocata personale Sì 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 O lo svarione Personale Secondo ovviamente Dei Sì qua c'è stato un misto Di giocata Barra svarione Entrambe direi Esatto Perché se Leo Non avesse riusciato da solo Sicuramente Sardino non poteva mai Fare quello che ha fatto Però Tanto di cappello Ha fatto un bellissimo gol Sì sì Perché comunque poi Il Frank è rinato Ed era rimasto con 300 di vita Ha utilizzato il gadget Al momento giusto Assolutamente Ed è partito proprio In maniera perfetta Quindi assolutamente Un gran bel gol Qui migliore in campo La bea con Blackfire Che ha davvero tenuto il campo In maniera ottimale Anche se io gliel'avrei dato A Sub-Zero Per la giocata Sì per la giocata Sì per la giocata Assolutamente sì Ha fatto la giocata Del gol Insomma Sì E qui adesso ci ritroviamo In una situazione Di parità Per quanto riguarda Football E quindi Dovremmo andare Un attimino a capire Adesso I cambi Che ci possono essere Perché secondo me Il Frank lo confermano Da entrambe le parti A questo punto Direi su questa mappa Sì A me è piaciuto Io ti dirò Nonostante abbiano perso Secondo me Il Semino È una scelta giusta Dovessi dire Cosa facciamo ragazzi Per sfronteggiare Gli OS Che secondo me Giocano con la stessa comp Prenderei una bea E togliere il Frank Ah quindi andresti Tu Quindi tu lo toglieresti Il Frank Da parte di Totem Da parte di Totem E metterei una bea E giocarla Insieme a Semino Oppure togliere anche Mino e mettersi dentro Un Carl E fare una cosa del genere Sperando tra virgoletto Comunque supponendo Gli avversari giochino Quello che hanno appena giocato Sì no Stavo ragionando un attimino Sui banna Però a Carla Non dovrebbe essere bannato Ah Carla è bannato Perdonami Potrebbe Potresti No non è bannato Non è No 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 Infatti no Non è bannato Stavo pensando Se fosse bannato Sì Ci può stare Ma infatti Carla prima L'abbiamo visto Tra l'altro Adesso che sto dicendo Sì infatti Sì 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 Lo stavano utilizzando Evidentemente Vabbè gli OS Hanno cambiato Tutto il team Hanno completamente Stravolto la comp E si sono portati a casa Il risultato Non hanno Diciamo Hanno controllato Sicuramente La situazione Perché Non hanno mai Diciamo rischiato Di subire il gol Però non hanno fatto Neanche quella partita Schiacciante Della serie Non ti faccio muovere Ti chiudo lì Dentro la tua metà campo È stata un po' Una partita mista Dove gli OS Hanno saputo sfruttare Quelle occasioni Che hanno creato Non ne hanno subito Perché Bea Ha tenuto davvero Ha tenuto davvero molto bene La zona di campo E proprio lì Come dicevi tu Probabilmente Devono cercare Anche i totem Di avere quel brawler Che ti tiene Un po' più a bada Bea Probabilmente Anche perché Frank una volta Ti rompe tutta la mappa Semino Secondo me Fa davvero fatica Contro Bravo Esatto Ma avevi Semino Più Frank Quindi capito In campo aperto Hai due personaggi E comunque Soffrono tanto Gli avversari Anche in quell'ottica lì Anche Aggiungo una cosa Che stavi dicendo tu prima Non ne abbiamo visto Vincere in maniera schiacciante D'accordo Ma non lo vedremo mai Penso In questo campionato qua Soprattutto in questo gruppo qui Che ragazzi Il gruppo A È qualcosa di clamoroso Penso sia Veramente il gruppo di ferro Per tutti e quattro le squadre Il girone A È davvero È davvero pazzesco Tutti e quattro i team Se se la giocano bene Possono davvero puntare Ad arrivare Tanto 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 in alto Comunque qui Fammi dire giusto Questa cosa qua Se i totem Avessero seguito Il mio predict Penso che Avrebbero potuto vincere La partita Così la vedo Molto piuttosto Perché il doppio tank Frank più Daryl Credo li premierà Sì diciamo che Qui Allora hanno preso Comunque il controllo I Sì sì Attenzione Vediamo Vediamo Non è detta No Sì 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 Diciamo che Adesso che si spacca un po' Tutto Forse Farà un po' Più di fatica Il Baryl Finché non carica La ulti ovviamente Sì Vabbè ma Baryl Lo giochi così Capito Prendi qua Attenzione Error di Blackfire Questo è gol 2 a 1 Eh Qui svarione di Blackfire Che è andato Prendete su in alto a sinistra Ha lasciato praticamente Da solo Sub-Zero Questo gol Decisamente regalato Mentre il primo È stato frutto di due giocate Davvero molto buone Questo qui È stato Decisamente Decisamente regalato Diciamo che La La compattezza del Frank Ha pagato Il Frank e i totem L'hanno già davvero bene Tutte e tre le partite E qui ha premiato Ha tenuto davvero sempre La lane E di là appunto Come stavamo dicendo prima C'è stato lo svarione E quindi i totem Sono andati proprio Puliti puliti lisci Come l'olio A fare gol Guarda Secondo me Questa qua È stata Un grande svarione Da parte di OS Questa partita Perché è finita Troppo velocemente Quando perdi Quando perdi così In quanto 30 secondi Adesso non ho visto Quanto tempo è durato Però vuol dire Proprio che sono i ragazzi Che bene o male Non si sono incastrati bene Nelle giocate Piuttosto si ha detto Vieni indietro a difendere Black stava attaccando Capito Nel panico Ha sbagliato Di solito Quello che succede È questo Ma anche perché Maxine viene utilizzata Proprio per questo Perché nel momento In cui il tuo avversario Fa un errore Tu da un momento all'altro Puoi punire L'abbiamo visto prima Con Sub Per quanto riguarda gli OS L'abbiamo visto adesso Due volte anche Per quanto riguarda i Totem Maxine è davvero Un brawler Che a questi livelli Sanno giocare Perché Sanno giocare Maxine E che se il tuo avversario Fa un errore Maxine con la sua velocità Lo sa sfruttare E lo abbiamo visto Lo abbiamo visto Eh Leo Leo sta piacendo molto Guarda Non me lo aspettavo Non lo conoscevo Prima di oggi No Anch'io Starò sincero Ti dirò Dei ragazzi Ce ne sono veramente Pochi che non conoscevo Ho visto un po' Ben o male i roster Leo Prima apparizione Tanto di cappello Ci vediamo anche Il primo bounty Prima subito ricercati E guarda un po' Che mappa hanno ritirato fuori Te la stavo chiedendo Te la ricordi Ovviamente Aveva un altro stile Era diversa Aveva gli alberi Te la ricordi? Aveva gli alberi Era tutto alberi Sì Esatto Era tutto Ed era chiusa anche centralmente Mi pare Adesso non ho visto se Hanno rotto tutti i connetti Loro Sì sì hanno fatto un disastro Loro all'inizio partita Infatti Questa mappa Penso sia una delle mappe Più vecchie Forse è giunta con Il secondo Terzo aggiornamento Sì Questa è vecchissima Ma parliamo di due anni fa Ragazzi Qua penso che L'80% Di chi sta guardando Non sa quello che stiamo dicendo Giustamente No Assolutamente no Comunque qui vediamo Due scuole Di pensiero Di pensiero Diverse Diverse Da una parte abbiamo Doppio tank con Maxine E dall'altra invece abbiamo Doppio lanciatore Ma tra virgolette Con un triplo Perché anche Mi serve È una via di mezzo È un supporto mascherato Bravo È proprio un ibrido Comunque 4-2 Da parte dei totem Che però Se si fanno Pushare indietro Vanno a perdere Sì esatto Devono essere bravi A mantenere il centro Devono essere bravi A mantenere il centro E cercare di fare Sai cosa Un push Intorno ai 25 secondi Capito Riprendi in controtempo Fai quelle due kill E poi arrivi in base tua Che il tempo scade Che è un po' quello Che stanno provando a fare Adesso un po' prima Infatti complimenti Beh bravi No no Stanno tenendo la mappa Davvero in maniera Ottimale Cioè non stanno Facendo avanzare Gli os Che è quello che stanno Cercando di fare Per fare proprio Questo push finale E sai Non credo Riescano a buttare giù Qualcuno Negli ultimi 20 secondi Ah non lo so Guarda questo flank Clamoroso Dall'ind Eh ma C'è lo scudo C'è lo scudo No 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 Infatti infatti Questa sarà tosta Questa sarà tosta No 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 Anche se 8 secondi Sono tanti eh Ora lì Quella Quella bombetta Entra Un paio di hit Sub-Zero Non riesce a fare la kill Altra kill 484 ragazzi Bellissimo No 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 Ma infatti no Non ce la potevano fare Erano veramente I totem Hanno tenuto davvero Molto molto bene Il campo Non sono mai indietreggiati E non hanno mai permesso Agli os Di fare entrare Quelle hit Importanti E lasciare one shot I brawler Per poterli poi finire Eh qui secondo me Andremo a vedere Secondo me anche loro Con il doppio tank Maxine andranno a cambiare qualcosa Probabilmente Perché gli os Cambieranno Non credano Vadano a confermare La comp Forse hanno esagerato Un pochino troppo Con il doppio lanciatore Con Mr. P Forse era meglio Se mettevano qualcos'altro Al posto di Mr. P O magari non proprio Il doppio tank Mentre di là Hanno fatto Una scelta un po' più rocciosa Che ormai faceva con Pocio Ma ti dico la verità Ma che poi Pocio Perdonami È bannato in questa mappa qua Sì no Pocio è bannato Ovunque in questa In questa Ah hai ragione Sì perché sono global Esatto Sì 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 No no nel loro match È completamente bannato E tanto mi dimentico Anche io lo abbiamo Eh mentre i ricercati Sono bannati Jackie che in questa mappa Era perfetta E Mortis E Mortis E Mortis Si stavo leggendo adesso Io te la butto lì Te la butto lì Ma una Penny Ma Penny ci sta Sia per i corridoietti Che per quanto riguarda il mortaio Bravo Anche perché messo dietro Io me lo ricordo Era molto fastidioso Qui anche Stecca Stecca era uno Bello bello tosto Nel caso in cui appunto Mortis si è inibito Che poi tra l'altro Questa mappa c'era Quando non esisteva ancora La seconda abilità stellare E quindi non esisteva La forza di Penny Forse non c'era neanche la prima Adesso non ti ricordo Però Sì vabbè è vero È talmente vecchia Che quindi Se ci pensi Penny Con l'abilità stellare Con la seconda abilità stellare Zona ancora di più E quindi potrebbe Funzionare ancora Sì si ma anche Con la prima Alla fine Nel senso Per carità La seconda poi La giochi un po' Da tutte le parti Forse la prima La vedi solo in assedio Correggimi Al massimo rapina Se proprio Sì ma vabbè Ma lì non vedi Penny No no ma infatti Infatti era per dire Più che altro Nelle ladder In ladder Ah beh in ladder Giochi tutto Da sdraiato Al contrario Un dito solo Legato No 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 In ladder Si vede un po' di tutto Ragazzi non prendete la ladder Come io gioco in ladder E quindi faccio i tornei Perché non funziona così È diverso È completamente diverso Cioè se volete affacciarvi A questo mondo qui Cominciate Guardando queste squadre Guardando Più che i giocatori Come Come affrontano la partita Quindi come cambiano la comp Ogni volta Come non fanno Scelte Troppo pazzerelle Passiamo Passatemi il termine Ma questo sicuramente Vi fa capire Come dovete approcciare Un competitivo Piuttosto che una ladder Come diceva prima Gigi Penny Su assedio sì Su rapina no E state sicuri Che qua non la vedrete mai Da nessuna parte No no Adesso Prossima partita No che rapina non c'è Quindi non possiamo Uh però guarda un po' Che hai richiamato Il carissimo Stecca Stecca l'ho detto Perfetto Poi Brock Ottimo E Mr. P e Semino Da una parte dell'altra Ci sta Ci sta la compa A me piace più quella Degli OS Ma perché Io sono fan Di Stecca Di Stecca E poi mi piace tantissimo Brock Non mi piace per niente Surge Ti dirò Lo detesto No io ti dico invece È vero Per Surge Sono d'accordo con te Preferisco quella dei Totem Perché secondo me Mr. P È la sua mappa Questa secondo me È la mappa di Mr. P Una delle tante Mappe Mr. P Perché Mr. P Ne ha svariate Quindi può davvero Creare fatica Tanta Tanta difficoltà Agli avversari Bisogna vedere gli OS Come riusciranno A counterarlo Adesso Sub Zero Ha anche una ulti Secondo me a breve La usirà Esatto Per andare a speccare Qualcosina Guarda Il pattern Che dovrebbero seguire Secondo me Quelli ragazzi Di Totem È quello di Pushare tutti Perlomeno in due Sulla lane O di Rico O di O di Brock Perché se rimani mid E ti fai prendere a schiaffi Da Nanosaki Non vede nessuna parte Eh sì Perché vedi Comunque è molto facile Per uno Sprout Tenere botta È lì Non dico che fa auto attack Però potrebbe fare anche quelli Perché Gli spazi sono ristretti Mentre se vai Lateralmente Ce la puoi fare Uh Va a fare anche la kill Su Leo Bravo 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 Sì sì Qua Sono avanzati un po' E si sono andati a prendere Quella kill Nanosaki va a bloccare Il corridoietto centrale Va a fare un'altra kill Su Leo Qui adesso Devono stare attenti Giusto al push finale Degli ultimi 20 secondi Diciamo che Come stavamo dicendo prima E come hai detto giustamente tu Il surge Non ha convinto Però comunque Qui attenzione al push finale Con un Brock Che ha la ulti Chi è che devono tirar giù Devono tirar giù Sprout Nanosaki No non ce la fanno mai Eh ma attenzione Che qui sub Sta in difficoltà con Savi Eh no ma non fanno in tempo No 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 Ma a prescindere Sarebbero Stati sconfitti tutti quanti E infatti il migliore in campo Nanosaki Perché è l'unico che ha giocato Ha fatto tantissimi danni A tutti Sì 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 Assolutamente No devo dire la verità Guarda E qui già capiamo Da questa cosa Che il livello Si è alzato tantissimo Ricercati La scorsa stagione Il team che era in vantaggio Gli ultimi secondi Perdeva Matematicamente Erano rarissime Quelle occasioni In cui Il team in vantaggio Poi se la portava a casa Ovviamente a volte succedeva Perché come abbiamo visto La classifica Ci sono dei team che hanno dominato Ma quando quei team Sullo stesso livello Si sono sfidati Non c'era quella capacità Erano al pelo Non so se ti ricordi La partita Proprio clash Contro S In cui c'era quel Daryl Di Sergio Che come come Non me la ricordo Sette volte L'abbiamo rivelata La partita Corrado Come faccio a non ricordarlo Io ero seduto a casa Gli ho Sergio Ma attacca Bello mio Vai avanti È stata No ma I ricercati L'anno scorso Ne abbiamo viste Di cotte Di crude Anche in arena stratificata Che finivano 0 a 0 Vabbè Lì Però aspetta Era una defezione della mappa Nel senso Era pensata male Sì 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 Adesso con il meta Funziona meglio No ma adesso con i gadget Perché quel problema C'era Soltanto per un discorso Che i brawler Avevano quell'abilità stellare Avevano quell'attacco Quindi era un gioco Molto più matematico Cioè prima Brawl Stars Era un gioco Molto più matematico Perché c'erano quelle Composizioni Quelle comp C'erano quelle mappe E via Adesso che le variabili Sono tonnellate E che soprattutto adesso Supercell secondo me Sta facendo anche un buon lavoro Per quanto riguarda Le abilità stellari Che cambia quella Adesso è entrato 8 Bit Cioè fa quei cambi Che fanno alzare Ancora di più Le variabili E di pareggi Se ne vedranno Perché secondo me Per il livello delle squadre Se ne vedranno Però sia qui in Italia Che anche la championship Che mi capita Spessissimo di castare Da quando ci sono gadget E altre cose I pareggi capitano Decisamente meno E devo dire la verità Sono molto più godibili Le partite Sì 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 Anche se sono tornate Mappe Con questo aggiornamento Tipo Piana delle stelle Anche lì Mappa storica Che spero che Stasera la rivediamo Lì pareggi Ragazzi erano Non dico Anzi sì All'ordine Cioè tutte le partite Venivano pareggiate No sì no no È stato Quella mappa è pazzesca Quella mappa è davvero pazzesca Qualche volta la vorrei vedere La vorrei vedere Sì vabbè ma sicuramente Sicuramente Ecco che rientrano Sì allora Oh questa era bella poi Eh sì questa era bella OS confermano il team Fanno i giusti cambi Secondo me i totem Il team dei totem Questa volta mi piace davvero molto Ti dirò Sì anche a me Anche a me Sarà tosta Sarà molto tosta Sono molto squishy Gli OS Io ti dico Io te la butto lì Totem Se la portano a casa Sì sì Sarebbe il colpaccio Guarda qua 1 a 0 Attenzione però bella kill Da parte di Nana Nana Osaki qui ha fatto Davvero un'ottima kill Qua Sub-Zero sbaglia un po' Due colpi Però comunque riescono Ad allontanare Lind con Bibi Eh qui deve essere bravo Sub-Zero a caricarsi Il prima possibile La ulti E cercare di spaccare Il più possibile Eh ma devono aiutarlo Perché da solo guarda Non ce la fa Eh sì 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 No 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 Vedi come l'ha aiutato Il suo compagno Giustamente Uh qua Leo va giù Quindi 4 a 1 Eh Sub si sta tenendo la ultima Va a giocare adesso Su quel semino Bravo Sì va a spaccare Bella giocata Lì dovrebbero tenere un po' più d'occhio l'indo Perché è l'unico che può dare problemi Sulla sinistra Vedi come avanza Avanza insieme a Savi Poi giustamente lì Sub se riesce a tirare giù Savi È fatto Diciamo la partita Attenzione qua Niente Eh attenzione perché Eh attenzione perché Nanosaki per un attimo Stava andando giù E ha 4 stelle Fermo Ferro Non hai detto niente Infatti guarda lì Eh guarda lì Guarda lì Ah no va giù l'indo È andato giù l'indo E qua va giù anche Savi Vabbè ragazzi Che dire È andato giù anche Leo 10 a 1 10 a 1 però Immeritato Immeritato ma ti dirò Guarda che è ancora aperta eh Guarda quante stelle hanno Sulla zucca Nanosaki e Blackfire 9 Eh oddio Sì però è fantascientifico Nel senso è tosta Infatti Sando che è quello Senza stelle Che va avanti da solo Io ne ho viste troppe Per non aspettarmi nulla Da Brawl Quindi No no ti capisco Ti capisco Ma infatti vediamo se Magari uno va giù Però più di uno no Guarda Infatti vediamo Non riescono Ah si dice ho una addirittura Non riescono proprio a spuntarla Perché Col fatto che si sono concentrati Sul signor Nana Che con Poteva ricaricarsi la vita Utilizzando i cospetti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.